Buongiorno a tutti e ben arrivati a questo nuovo appuntamento di ACDC, Frontiere della Biologia. Di che cosa si tratta? Si tratta di un ciclo di tre appuntamenti che il Muse ha organizzato nell'ambito del progetto europeo ACDC per far conoscere tutte quelle ricerche che proseguono nella linea di confine fra vivente e non vivente e tutte quelle ricerche un po' di frontiera, non solo ricerche scientifiche ma anche riflessioni in ambito del societario quindi in ambito di biodiritto, di bioetica ma anche in ambito delle ricerche di pratiche artistiche. ACDC sta per Artificial Cells with Distributed Cores ed è un progetto di ricerca scientifica finanziato dal bando Horizon della comunità europea dal programma Horizon e si tratta di un progetto di ricerca che vede coinvolti diversi partner interdisciplinari e provenienti da diverse istituzioni europee che cercano di collaborare insieme per spingere un po' più in là le nostre conoscenze nel campo della vita artificiale con l'obiettivo proprio di riprodurre quelli che sono i meccanismi biochimici che avvengono nelle cellule e quindi di provare a riprodurre diciamo così delle protocellule e ricreare in qualche modo il laboratorio delle forme di vita artificiale. In questo appuntamento vorremmo esplorare un po' quella linea di confine che c'è sempre stata storicamente fra pratica artistica e ricerca scientifica e come arte scienza su tematiche come questa molto all'avanguardia possano in qualche modo unirsi e collaborare trovare una forma di dialogo. Lo faremo insieme ai nostri due ospiti che sono Lorenzo Pacchinelli e Giuseppe Lo Schiavo. Eccoli qui, benvenuti. Grazie, benvenuti. Ok, allora Lorenzo è uno dei fondatori della piattaforma artistica Malivail, ho detto bene? Ho detto benissimo. Abbiamo provato diverse volte e sono riuscito a sbagliarlo. Malivail e si tratta di una piattaforma artistica che in qualche modo è impegnata da anni in percorsi di ricerca che uniscono arte, scienza, antropologia ma sono anche impegnati in percorsi di formazione e di supporto a a progettualità artistiche. Ed è proprio per questo motivo che Lorenzo ha conosciuto Giuseppe. Giuseppe invece è un visual artist che noi Giuseppe, scusate, noi come museo e anche Lorenzo abbiamo conosciuto grazie a una challenge che è stata lanciata dal progetto SDC, la BioArt Challenge, lanciata nello scorso anno. Giuseppe è il vincitore di questa challenge e ha avuto modo di entrare in contatto con il museo e con la ricerca portata avanti dal progetto. Lorenzo è stato proprio, ha seguito il suo percorso, ha collaborato a diverse iniziative di contaminazione in qualche modo tra arte, scienza e museo e quindi sono con noi per cercare di esplorare un po' di più questo punto di incontro. E allora inizierei subito con una domanda a Lorenzo per cercare di capirne un po' di più, visto che il titolo di questo talk è Arte e Scienza, la BioArt al Muse. Ti chiedo subito, Lorenzo, ma che cos'è la BioArt? Come potremmo definirla? Di che cosa si occupa? Datti un po' un inquadramento quando usiamo questa parola? Beh, allora, intanto bisogna dire che per chi volesse approfondire ci sono moltissimi libri molto interessanti che negli ultimi anni stanno uscendo su questo tema, quindi diamo una leggera infarinatura adesso proprio se uno non avesse mai sentito parlare di BioArt, di cosa parliamo quando parliamo di BioArt? Magari condivido intanto delle slide, eccole qua. Allora, questa è una slide presa da una conference di Gioito che allora era il direttore dell'MIT Media Lab e abbiamo aggiunto però noi un cerchio. Allora, lui diceva che cos'è il Bio, il Bio? Il Bio come la nuova frontiera del... dopo il digitale ci abbiamo il Bio, siamo arrivati a quel livello. Faccio un'introduzione veloce. Dopo la rivoluzione industriale e dopo la rivoluzione informatica è ora, ora negli ultimi 15-20 anni è in atto una rivoluzione nella biologia e in particolare nella biologia sintetica, di cui però ancora stiamo facendo fatica a delinearne la portata. È il futuro che già si sta attivando perché se in un qualche modo i biologi sintetici paragonano la loro cultura a quella degli innovatori degli anni 70-80 del secolo scorso che nei loro garage, negli garage americani, hanno sviluppato i primi personal computer, cioè aprendo la strada di fatto ad una nuova industria, quella digitale. E però se consideriamo che già nel 2010-2011 in America, negli States, c'erano, secondo calcoli non ufficiali, circa 11.000 biogarage che sono l'equivalente dei garage informatici degli anni 70-80, capiamo la portata di questa rivoluzione e capiamo perché Gioito nel 2015 dice che il bio è new digital. Ora, la bioarte, come dice la parola stessa, è l'utilizzo di un approccio artistico su quello che è un processo vivente, niente di più. Tuttavia questa definizione lascia sullo sfondo un aspetto che è molto importante di questa pratica, ovvero il rapporto con la tecnologia. Infatti per tutte le ricerche che hanno a che fare con l'intervento o con una modificazione addirittura del vivente è necessario un'interazione di tipo tecnologico. Ed ecco che quindi questa slide che ho scelto di usare come prima slide spiega e racconta in maniera molto chiara che cos'è il bio, cioè è quel spazio che si trova all'incrocio di una serie di competenze, di una serie di discipline, di una serie di approcci. L'approccio tecnologico che è fatto in particolare dal design computazionale, dall'additive manufacturing, quindi tutto ciò che è stampa 3D, stampa 4D e tutte quelle ricerche là, dall'ingegneria dei materiali e dalla biologia sintetica. Al centro di tutto questo si trova un territorio di ricerca, un territorio di confine molto interessante che possiamo definire bio. La bioarte è uno specifico approccio di questo grande mondo del bio e è dove questo mondo viene preso in carico dagli artisti che, come sempre poi succede quando arrivano gli artisti, ne sviluppano anche i paradossi, lo portano oltre i suoi confini, diciamo, più del possibile, lo portano verso i confini più speculativi. Abbiamo aggiunto anche nel cerchio a fianco robot, nel senso che questa presenza che abita la nostra contemporaneità non può essere esclusa da un discorso sul bio e da un discorso sulla bioart. Ora poi magari con Giuseppe approfondiremo il discorso e parleremo anche della relazione con l'artificiale, però in qualche modo ci sembrava che mancasse un cerchio a questi quattro cerchi oggi, quella slide era del 2015. Quindi la prossimità con queste molteplici, chiamiamole intelligenza artificiale per tenere dentro tutto, nelle nostre quotidianità ricolloca in una maniera che, e qua uso una parola su cui avremo tempo di discutere, ricolloca in maniera naturale molte delle nozioni classiche della biologia e della genetica in un'ottica però post-umana, in un'ottica post-naturale. E questo ovviamente ha delle implicazioni, delle implicazioni di tipo biologico, primariamente, ma anche di tipo giuridico, di tipo filosofico e di tipo artistico, linguistico, etico, eccetera, eccetera. E queste implicazioni sono ancora completamente aperte, non abbiamo ancora un'idea chiara di cosa significhi. Ecco, la bioarte cerca di studiare, approfondire, mettere in crisi le relazioni che emergono dalla presa di coscienza di queste molteplici trasformazioni. Ora faccio scorrere un po' di slide, ne ho molte di più di quanto non abbiamo tempo di vedere, ma almeno così diamo uno sguardo di che cosa può diventare la bioarte quando anche in qualche modo poi diventa applicata. Quindi adesso facciamo un volo d'uccello, a volo d'uccello, una serie di, vediamo una serie di progetti. Questo ad esempio è uno, scusate che mi apro un po' lo schermo che è troppo piccolo per me, questo è un printed drink, ovvero una bevanda che viene stampata e con l'utilizzo di un approccio di tipo biologico viene di fatto creata una bevanda. Io non commento le slide, le illustro brevemente in modo che si possa avere un'idea di quanto può essere ampio quel piccolo spazio giallo all'interno dei quattro cerchi di cui vi ho fatto vedere prima. Ora non sono neanche sicuro che sia tutta tutta bioarte, però sicuramente sono cose che hanno a che fare con quello di cui stiamo parlando. Questa è una macchina da corso stampata in scala micrometrica, è stata fatta nel 2012, quindi non stiamo parlando di stamattina o di ieri mattina, dall'Università di Vienna ed è stata stampata a 285 nanometri, quindi insomma contiamo che 10 nanometri sono mille volte più piccoli del diametro di un capello, quindi stiamo capendo su che dimensioni stiamo ragionando. Ecco, questi sono degli esperimenti, ma questi esperimenti vengono, sono attualmente in fase di studio, ad esempio dalla NASA, per sviluppare dei nano gears, cioè delle forme di motore che possono essere però sviluppate a livello nanometrico. Altri esempi, queste sono invece delle orecchie, degli organi, delle corne stampate in 3D che sono al momento stampate in ambito universitario, però in collegamento con degli studi di tipo ospedaliero, vengono applicate o cercheranno di essere applicate in ambito medico. Siamo nel 2020, credo che già da questa foto la medicina abbia compiuto grandi passi per quanto riguarda l'applicazione di questi primi esperimenti. Questi sono dei tessuti, sulla sinistra invece sulla destra ci sono degli hyper elastic bones, delle ossa iperelastiche sviluppate tra il 2015 e il 2018 da un artista designer che sono state pensate per ricostruire pezzi di osso fratturati con delle proprietà però che le ossa umane non hanno, ovvero un'elasticità maggiorata e una forza di piegatura molto più forte. Questo è un esperimento, una stampa 3D con escherichia coli che stampa escherichia coli, quindi un batterio che viene utilizzato sia come supporto che come materiale di stampa. Sono sempre degli esperimenti, non sto presentando solo delle cose che sono già attuabili, sono esperimenti che però danno l'idea della dimensione di che cosa significa bioarte e bio in senso ampio. Questo è un famosissimo kit, che è un kit per fare il CRISPR, sostanzialmente l'analisi del DNA in un laboratorio domestico. Ecco, questa cosa, come le successive, ovvero questa cosa che è stata sviluppata ad Oxford, che è la Nanopore, e alcuni genome compilers che sono dei software, hanno permesso uno sviluppo, quello di cui parlavamo prima, uno sviluppo della bioarte negli ultimi 15 anni, uno sviluppo verticale della bioarte. Se prima poter lavorare sul DNA era una capacità che avevano pochissimi e ben finanziati laboratori di biologia, oggi qualunque ragazzino può sviluppare appunto nel proprio garage, il proprio biolab, il proprio bioreattore, amplificando le possibilità che questo può avere ovviamente, sia in termini di sviluppo che in termini speculativi. E quindi tutte queste tecnologie le ho volute inserire in questo slide perché dimostrano la possibilità orizzontale che si è creata negli ultimi 15 anni di approcciare questi temi, anche per degli artisti che magari non hanno tutta quella possibilità economica o non hanno a disposizione, e di questo forse ci racconterà anche Giuseppe, un biolaboratorio dove iniziare a fare gli esperimenti. Quasi tutti i bioartisti, i biodesigner che conosco hanno iniziato nella propria cucina, nel proprio frigorifero e sul proprio fornello. C'è una slide di relationships perché credo che tutto questo vada letto e vada costantemente tenuto presente alla luce di questa parola, ovvero delle relazioni. Cioè noi stiamo interrogando e interrogandoci sul vivente. Queste relazioni sono all'interrogare queste relazioni col vivente e con i viventi in generale sono alla base delle quasi tutte le domande che la bioarte pone. Quindi diciamo il tema delle relazioni secondo me, secondo Malivail e secondo la nostra ricerca è il tema chiave, è la domanda chiave da cui dobbiamo partire per capire non solo come lavorare col bio ma anche che cos'è il bio in questo momento. Ora proseguo un po' a volo d'uccello alcuni altri esempi. Questo è un tessuto che è stato dipinto da dei batteri con un grande risparmio di acqua, con un grande risparmio anche a livello economico di energie. Quello successivo è invece una serie di tessuti sviluppati all'interno del King's College a Londra su cui però sono stati inseriti pezzi di ossa che sono cresciuti, pezzi di tessuti che sono cresciuti. Quindi è a metà fra un tessuto, una cosa organica, un gioiello, insomma anche qua è interessante capire che tutti questi processi richiedono nuove parole, nuove definizioni, nuovi punti di vista per essere proprio capiti, per essere compresi e per essere raccontati. Questo è un progetto di Tal Danino che si occupa di medicina, si occupa di sviluppo di ricerca sui tumori però fa il suo lavoro, ha anche tutta una parte estetica e queste sono di fatto cellule tumorali messe a cultura che hanno poi uno sviluppo di tipo totalmente estetico. Scusate io. Questo è un esempio molto famoso, sono degli stivali sviluppati da Maurizio Montalti e dal suo studio Corpuscoli, degli stivali sviluppati dalle spore di funghi che possono essere pensati per gli astronauti, infatti partendo dalla spora hanno il tempo del viaggio dalla Terra a Marte per crescere e sviluppare lo stivale. Quindi di fatto gli astronauti partono con delle spore e arrivano o arriveranno con gli stivali sviluppati. Allora, questa è Xenobot, è un progetto del 2020 ed è il primo robot completamente, completamente biologico. Cioè questo è un robot che non ha avuto nessun tipo di sviluppo, non ci sono dentro cellule che non siano di tipo biologico. Sono state prese delle cellule di rana, sono state messe a cultura, sono state ingegnerizzate e si è sviluppato un essere che è un robot, ma è anche un essere vivente che ha delle funzioni come molti esseri di tipo, diciamo, di intelligenza base, quindi risolve determinati problemi, che non è più una rana ma non è neanche un robot come siamo abituati a pensarlo, spesso con le fattezze umane. Ecco, questo invece è un animale modificato che mi pare nel 2019, forse mi sbaglio ma non di tanto, la Food and Drug Administration americana ha considerato come ammissibile sia per usi alimentari che per usi medici. Questo vuol dire che la bioarte che noi immaginavamo solo nei biogarage fatta da dei ragazzini, da delle ragazzine appassionate di tecnologia, in realtà è già nelle nostre medicine, è già sulle nostre tavole e chiaramente in mezzo c'è stata una pandemia che ha reso molto chiara tutto questo processo. Quindi, per intenderci, qual è il confine tra arte, qual è il confine tra arte e design e qual è il confine tra applicazioni di questo tipo di ricerche, è tuttora una domanda che ogni giorno trovo una risposta dentro ai discorsi che facciamo, da quelli dei virus e dei vaccini fino appunto allo sviluppo di materie, nuovi materiali per il cibo, nuove forme di agricoltura, eccetera. Questo è un esempio più speculativo, ma è l'idea che si possa sviluppare un organo che il corpo umano non ha, non ha almeno all'origine, ma che poi potrebbe avere e potrebbe diventare geneticamente importante per lo stesso corpo umano. Ecco, qua adesso vado verso una sezione che è quasi tutta speculativa, faccio molto velocemente però, per far capire che, quello che dicevo prima, che la bioarte cerca di studiare, approfondire e mettere in crisi queste relazioni che emergono dalla presa di coscienza delle trasformazioni tra bio e tra tecnologico e umano e non umano e postumano. E quindi, in concerto anche con altre discipline, come sicuramente la filosofia, ma molte altre discipline speculative, l'arte sta dando un contributo che affianca le ricerche scientifiche e affianca anche le arti applicate, come il design, in una visione che è sempre più interconnessa, sempre più multidisciplinare, e dove una materia e una disciplina non può esistere senza l'altra. E a volte è proprio la bioarte, che è solo la parte iniziale di una ricerca, che essi esprime un problema che poi design, medicina o altre discipline scientifiche portano ad applicazione. E quindi, se negli ultimi 15 anni la bioarte, grazie anche alla diffusione di tutte quelle tecnologie a basso costo di cui abbiamo visto, hanno permesso quindi sequenziamento di DNA, manipolazione di materiale genetico, eccetera, eccetera, si è diffusa in maniera notevole, è anche grazie a l'approccio particolarmente speculativo e particolarmente critico che l'arte ha nel proprio DNA. Ecco, quindi quello che ad esempio vediamo qua in questa slide è il tentativo di fare, di de-estinguere una mermaid, un essere fantastico che non è mai estinto e che probabilmente non è mai esistito, però qua, tramite la sequenziazione di una serie di genomi, l'artista Richard Pell prova a immaginare una storia, un mondo in cui le mermaid sono esistite e si sono estinte e lui prova a de-estinguerle, grazie appunto alle possibilità tecniche e speculative della bioarte. Questo è un esempio molto famoso di una delle artiste più quotate in quest'ambito che è Alexandra Taisy-Kinsberg, è un progetto del 2014, quindi ancora non stiamo parlando di cose particolarmente nuove. Si chiama Design for the Sixth Extinction e è un progetto dove lei immagina a livello speculativo di bioingegnerizzare una serie di esseri che sono dalle lumache alle foglie per risolvere alcuni problemi di tipo ecologico, quindi delle lumache ad esempio di tipo alcalino che poi distribuite su un terreno particolarmente invece tossico, ricco di scorie, possono alcalinizzare un terreno particolarmente acido su cui non può svilupparsi alcuna forma di vita, oppure le foglie di alberi che possono reagire all'acidità delle piogge e quindi dare delle informazioni agli alberi intorno per poter reagire in maniera diversa ad una pioggia acida piuttosto che ad un'altra. Insomma, sono degli esempi, però degli esempi che fanno vedere quanto un'applicazione speculativa di tipo bioarte poi si ibridi con altri ambiti e il confine diventa molto labile. Questo è un esempio del 2020 di un'artista residente a Ljubljana che si chiama Meet Me, dove lei ha invitato a cena a mangiare una carne prodotta dal proprio corpo praticamente. E questo, lo metto a chiusura, anche se avrei dovuto metterlo in apertura, è Edunia, uno degli esempi studio di qualunque libro sulla bioarte, il primo esempio studio perché è alla fine degli anni 90 che Eduardo Cac, un artista brasiliano, ha ibridato il proprio codice genetico con quello di una petunia. Quindi sostanzialmente questo fiore è a metà fra, è una nuova specie che si chiama appunto, che l'artista ha definito, ha chiamato Edunia, e è a metà fra Edoardo e una petunia. Non è nulla di diverso che un fiore, però appunto le sue, queste righe rosse delle foglie sono dovute al fatto che l'artista ha ibridato parte del proprio codice genetico prendendolo da le vene. E quindi il fiore ha sviluppato molto più, è diventato molto più rosso e molto più appunto simile forse a delle vene. Questo, poi c'è sempre un'imperscruttabilità all'interno di questi processi. Ecco, questo l'ho messo alla fine perché è un progetto del 2003 ma su cui l'artista ha lavorato già dalla fine degli anni 90. Quindi questo per dire che anche se alcune di queste cose sembrano delle cose non solo di oggi ma forse di domani, in realtà sono delle cose che stanno già accadendo e che sono accadute non poco tempo fa intorno a noi e che dobbiamo tenere in considerazione quando parliamo di bioarte perché non è appunto un campo di ricerca nuovo. Non so se questo può essere utile. Grazie mille, Lorenzo. In realtà è stato molto utile perché ci hai dato un po' un framework, un contesto di riferimento nel quale muoverci e cercare di capire che cosa si intende per bioart e come sempre quando si fanno delle domande e si prova ad approfondire un po' di più si capisce sempre che è difficile definire i limiti, i confini. Quindi ogni domanda porta sempre a un'esplorazione aggiunta e rende tutto un po' più confuso, un po' più di frontiera. E a questo punto io inserisco anche Giuseppe nel nostro dialogo e nella nostra conversazione perché volevo chiederti se tu hai avuto delle esperienze di bioart nel tuo percorso artistico come sei arrivato alla Bioart Challenge del Muse e di CDC e in che cosa come è andato il tuo lavoro di rapporto con il progetto, con i ricercatori a che percorso insomma sei arrivato quindi lascio a te la parola. Buongiorno a tutti. Ah, io dico buongiorno perché in realtà sono a New York quindi in realtà buonasera buonasera a tutti. Sì, diciamo che io come artista visuale negli ultimi anni ho cercato un po' di di unire la mia passione per la biologia, la biologia evoluzionistica alla mia disciplina artistica. poi diciamo l'anno scorso appunto ho partecipato a questo contest indetto appunto dal Muse a CDC e ho presentato un progetto che avevo realizzato grazie all'Università UCL di Londra. Sì, anche io diciamo la bioarte per quanto appunto come Lorenzo ci ha mostrato in realtà ci sono degli esempi anche dagli anni 90 anni 80 in realtà negli ultimi anni credo che ci sia proprio una sorta di di nuova rivoluzione artistica in cui moltissimi artisti in realtà cercano di intraprendere anche una carriera scientifica e molti anche molti scienziati che in realtà provano in qualche modo ad esprimersi anche attraverso l'arte proprio per questa questa relazione interconnessa tra le due discipline e proprio perché in realtà stanno nascendo tantissime nuove opportunità soprattutto ospitate da parte magari di di istituzioni scientifiche che non avevano mai aperto le porte ad artisti e quindi questo nuovo dialogo tra arte e scienza sta aiutando un po' entrambe le discipline sta aiutando un po' magari gli artisti a diventare un po' più metodici anche magari a sviluppare delle nuove tecniche ad essere anche un po' più efficienti nelle proprie idee e magari gli scienziati anche a sviluppare dei progetti che sono anche magari un po' più speculativi non vuoi raccontarci qualcosa dei tuoi progetti li condivido? che faccio? vado? esatto sì sì dai così ci racconti un po' di quello che hai fatto e di quello che hai fatto prima di ACDC e con ACDC esatto diciamo ok io sono Giuseppe Loschiavo sono un artista vivo visuale vivo tra Londra e Milano diciamo penso che gli artisti contemporanei non dovrebbero avere un ruolo solo un ruolo ausiliario di intrattenitori nella nostra società ma insieme insieme agli scienziati potremmo anche rispondere aiutare a rispondere a domande fondamentali ho iniziato appunto a sperimentare con delle culture batteriche nel mio studio a Londra come diceva Lorenzo perché partiamo tutti un po' da lì diciamo nel 2018 e nel 2019 mi è stato offerto un programma di residenza artistica per artisti nel reparto di microbiologia dell'università UCL di Londra infatti come potete vedere da queste immagini diciamo che io stavo già creando delle culture batteriche con patogeni però diciamo non era proprio un ambiente molto sicuro forse anche per questo mi è stata offerta questa opportunità diciamo a me piace indagare anche il processo creare delle connessioni sul processo attraverso il quale l'antropizzazione appunto dell'uomo altera il paesaggio l'attività umana ha contribuito all'alterazione della maggior parte della superficie terrestre e questo tipo di rapida espansione e controllo sul pianeta ha una sorprendente somiglianza con le contaminazioni batteriche gli esseri viventi spesso si uniscono in densi centri abitati le nostre città come appunto le colonie batteriche per avere un sistema sociale più efficiente anche politico e quando le condizioni sono favorevoli proliferano lasciando appunto un segno sulla superficie basterebbe guardare un po' il nostro pianeta dall'alto per capire il segno che l'uomo ha lasciato sulla superficie del nostro pianeta alcuni eventi del pianto per esempio della Vergine Maria che in Italia abbiamo anche avuto l'opportunità di conoscere sono stati attribuiti alla contaminazione di un batterio diciamo speciale che è anche quello che ho utilizzato per il mio progetto uso questo batterio che è chiamato Serracha Mercentius che è un batterio opportunista che in condizioni specifiche produce un pigmento un pigmento rosso che è chiamato prodigiosina questo pigmento in realtà è attualmente studiato per le sue proprietà biologiche antibiotiche e antitumorali molti episodi storici di transustanziazione questa è una parola molto difficile da dire insomma quando nella chiesa cattolica il pane e il vino usati nel sacramento della clorostia diventano effettivamente il corpo e il sangue di Cristo sono stati attribuiti alla crescita contaminazione di questo batterio è la caratteristica produzione di questo pigmento rosso questa quindi è stata la prima volta che questo batterio si è confrontato con le arti perché appunto nella la messa di Bolsena che in realtà vediamo nella slide precedente di Raffaello era proprio a commemorare questo 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 evento successo nel 1268 ad un sacerdote di Bolsena che poi è dato forma al miracolo eucaristico uso appunto questi batteri per ho usato questi batteri per contaminare delle foto stampate e scattate da me in luoghi dove era in atto un processo di alterazione del paesaggio nello specifico in queste foto ho realizzato degli scatti a Milano in un territorio dove la gentrificazione del territorio e della città stava un po' cambiando completamente il paesaggio urbano sta cambiando il paesaggio urbano le stampe vengono poi sterilizzate e quindi la traccia di questo pigmento rosso rimane sulla sulla carta alterando quindi il paesaggio dell'immagine e lasciando un segno di contaminazione realizzato dai batteri ecco queste sono un po' di immagini queste in realtà erano le stesse contaminazioni ma realizzate su delle fotografie che ho fatto in paesaggi diciamo incontaminati della Sila Catanzarese del parco nazionale della Sila e una diciamo delle challenges anche più grandi di questo progetto era quello di preservare la luminosità di questo colore essendo comunque un colore organico e quindi ho dovuto utilizzare delle tecniche di conservazione che venivano utilizzate nell'antichità per appunto conservare i colori dei dipinti sulle statue o sui murali quindi utilizzando delle soluzioni di sale e anche un po' diciamo senza avere l'opportunità di avere molte ricerche scientifiche a cui poter fare fede perché appunto nessuno ha mai utilizzato questi batteri proprio per colorare o per appunto contaminare degli elaborati del genere infatti questa è anche la parte interessante di questa tipologia di esperimenti perché magari nel laboratorio dove lavoravo non avevano mai analizzato non erano mai andati così distanti dalla loro routine abituale di controllo dei petri dish e controllo delle contaminazioni batteriche lavorando poi in un ospedale quindi diciamo che per loro questi tipologi di progetti erano anche molto interessanti anche dal punto di vista inspirational vado un po' avanti perché forse ok quindi e adesso diciamo con questo progetto sono ho vinto la challenge del ACDC in detta appunto del Muse e con il Muse in realtà ho avuto l'opportunità di confrontarmi con un'altra tipologia di ricerca che è anche abbastanza speculativa e nuova la ricerca che stanno presentando sulla biologia sintetica diciamo che è un nuovo una nuova disciplina che probabilmente rivoluzionerà anche come diceva Lorenzo la capacità di comprendere alcuni processi artificiali e scientifici e ci darà anche l'opportunità di di guardare sia l'arte che la scienza in un modo anche un po' più più speculativo parte diciamo del progetto ACDC si concentra sulla sull'esplorazione di delle possibilità della vita artificiale e sviluppare diversi tipi di cellule in laboratorio delle delle protocellule quindi delle cellule elementari queste cellule artificiali sono fatte al momento di capsule a base liquida che rispondono ad alcune delle caratteristiche che spesso vengono identificate nei sistemi viventi i cosiddetti sistemi naturali anche se a me la parola naturale è una parola che sta stretta per molti motivi però magari questa è una cosa che potremmo indagare più tardi con Lorenzo quindi queste capsule contengono conterranno dei nuclei interattivi che potranno essere fungere da micro laboratori comunicanti e questa nuova tecnologia in realtà è molto importante perché riproduce delle cellule potrebbe riproducere delle cellule viventi aiuterà a identificare nuovi bersagli futuri per farmaci e magari anche per condurre degli screening farmacologici contro delle proteine identificate sono appunto in fase di studio diverse caratteristiche di queste cellule sintetiche che io tra cui per esempio l'automovimento l'autodivisione la trasformazione biochimica e altre dinamiche e io ho cercato attraverso nel laboratorio del CBIO di Trento di di filmare grazie anche ai ricercatori che in questo momento stanno facendo parte di questa ricerca diciamo europea stiamo quello diciamo la mia opera l'opera che sto realizzando che è ancora quindi in fase di realizzazione sarà un'opera che conterrà dei video di queste cellule artificiali e al momento stiamo costruendo diciamo il codice il codice genetico di una nuova creatura digitale diciamo quindi il progetto sarà la creazione di un'opera d'arte digitale dinamica che contenga alcuni dei comportamenti tipici dei sistemi viventi che possegga quindi alcuni degli attributi rudimentali della vita che possa quindi essere in un certo senso condizionata dall'ambiente che la circonda cambiando cambiando forma che abbia un habitat personale che in questo caso sarà il web essendo un video digitale e che si nutra anche quindi di dati e visualizzazioni e che riesca a replicarsi anche in modo diciamo assessuale producendo altri elaborati digitali e che possa ovviamente anche morire perché alla base forse di un sistema per essere considerato vivo c'è anche quella che è la possibilità che questo sistema ad un certo punto cessi di vivere per esempio l'opera cambierà in base al livello di felicità percepito sui social network utilizzando un API esterno che ci fornisce questi dati in diretta ogni giorno creando analizzando facendo appunto una meta una meta analisi del sentimento degli utenti nei vari social network cambierà ovviamente anche in base a degli input diretti che si possono avere nella pagina che ospiterà quest'opera quindi ci sarà anche si aggiungerà anche un livello di interazione quindi questa 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 quest'opera digitale potrà essere anche risponderà a degli input esterni dei da parte dei fruttori quindi avrà questo senso di interattività e questa diciamo questa 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 connessione diciamo tra questi due mondi della biologia sintetica e della digital life che digital life in realtà sono questi nuovi programmi di ricerca sul sul ripensamento radicale dell'esperienza interattiva tra uomo e uomo e computer secondo me è molto è molto attuale molto attuale anche per quanto riguarda il nostro la nostra percezione che abbiamo della della realtà della realtà virtuale e soprattutto in un senso contemporaneo dei dei metaversi che andremo visto che quest'anno è stata diciamo la parola più cercata dagli utenti e che molti in realtà non sanno cosa ancora significhi però secondo me proprio il metaverso e la realtà virtuale si può legare in qualche senso anche a questo concetto di vita artificiale all'espansione della nostra della nostra persona da questo post umano della nostra condizione post umana che un po' fa disregard la nostra il nostro corpo dal punto di vista umanistico della perfezione del nostro corpo per orientarci verso un futuro in cui la vita in senso stretto potrà essere i confini sul reale sul quello che potrebbe essere considerato alive si espanderanno sempre sempre di più grazie mille Giuseppe per questa descrizione anche perché ci hai fatto un po' entrare in qualche modo in altri esempi di bioart in qualche modo ulteriore rispetto a quelli che ci aveva presentato Giuseppe io invito naturalmente chi ci sta seguendo se ha domande curiosità o commenti a scriverle nella chat e poi le gireremo ai nostri ospiti nel frattempo però vi faccio io una domanda e vi chiedo insomma così il vostro punto di vista il vostro parere avete parlato entrambi molto di questo rapporto fra arte e scienza e bioart come diceva Lorenzo si è sviluppata proprio come biohacking come provare a ricreare nei garage esperimenti scientifici a cui viene dato poi un significato e un punto di vista riflessivo su quello che è la società e così via e Giuseppe ci diceva di come invece molte istituzioni scientifiche stanno aprendo sempre di più proprio le porte i propri laboratori ad artisti non solo per avere un punto di vista diverso ma anche proprio per cimentarsi dal loro punto di vista nelle pratiche artistiche e quindi vi chiedo in base alla vostra esperienza com'è cambiato se è cambiato il rapporto fra arte e scienza che in qualche modo sono state viste tradizionalmente due ambiti completamente diversi e se in base alle vostre esperienze nel lavorare con i ricercatori con la scienza ci sono stati dei limiti ci sono dei limiti ci sono delle difficoltà e quindi come può essere anche migliorato questa apertura sicuramente ci sono anche dei limiti diciamo burocratici per esempio in Italia è molto più difficile in questo senso spesso approcciarsi a delle istituzioni scientifiche perché ovviamente ci sono tantissime regolamentazioni che può anche per entrare per esempio in un laboratorio di microbiologia in Italia sarebbe molto più difficile invece per esempio come l'approccio anglosassone che è molto più pratico da quel punto di vista questo fa in modo che appunto ci sia questa contaminazione tra arte e scienza molto più che sia molto più seguita per esempio nel laboratorio di microbiologia dove sono entrato per la prima volta a Londra loro sono un laboratorio di biosafety quindi quindi il primo giorno che sono entrato il director mi ha detto qui tu puoi lavorare ovviamente abbiamo dei materiali organici abbiamo dei batteri con i quali tu ti potrai eventualmente infettare però di qualsiasi batterio tu possa essere infettato in questo laboratorio noi abbiamo l'antibiotico quindi that's it cioè il loro approccio è se ti infetti prendi l'antibiotico non ci sono abbiamo questo approccio in Italia in realtà per esempio ovviamente è molto più cauta come approccio diciamo però io sono sicuro che anche nel futuro queste cose cambieranno anche forse l'utilizzo di strumentazioni richiede anche una una consenza ovviamente io ho fatto sì mi è stata fatta un'introduction per la maggior parte degli strumenti però spesso in realtà in Italia è anche proprio difficile entrarci cioè anche per visitarlo un laboratorio mi è capitato di mandare di provare a creare un dialogo con alcune istituzioni però in realtà non ho mai ricevuto delle risposte a parte il Muse che in realtà si sta impegnando appunto a creare questo dialogo tra questi beh anche l'Università di Trento l'Università di Trento mi ha dato appunto l'opportunità anche di filmare di entrare con gli scienziati con i ricercatori per creare questo progetto quindi da questo punto di vista è all'avanguardia Lorenzo condividi questa questa riflessione l'hai riscontrata anche tu vuoi aggiungere un punto di vista ma io ho meno aspetta sì io ho meno esperienza sull'utilizzo dei laboratori i wet lab che ho frequentato sono quelli del Muse e che appunto ha una in cui lavoro da tempo e che so che è impegnato in questo in questo dialogo quello che vedo intorno a me è che ci sono molti progetti che 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 ospitano artisti penso a progetti spazi dedicati all'interno di laboratori scientifici all'interno del CERN di Ginevra all'interno di università che cercano artisti con cui collaborare e all'inverso anche centri di ricerca artistici centri di residenza che cercano scienziati come cercano filosofi come cercano antropologi questo questo sta accadendo portando la riflessione ad un livello diciamo più ampio appunto io non avendo la competenza diretta dei laboratori sicuramente una delle cose che abbiamo visto anche facendo il programma Like Life che appunto è fatto all'interno del Muse ma cerca di lavorare con gli strumenti dell'arte con gli strumenti della scienza e del design a unire una serie di puntini a porre delle domande che possano essere trasversali per molte discipline quando abbiamo inaugurato la prima edizione di Like Life ormai due anni fa dopo la prima pandemia cioè dopo il primo dicembre mentre che cos'è Like Life per chi non ha Like Life è un programma che abbiamo curato come Malivail all'interno del Muse per il Muse ormai già da due anni che è composto da una serie di incontri pubblici con professionisti che vengono dal mondo dell'arte del design della scienza dell'architettura della filosofia e che si pone delle domande sulla relazione col vivente e poi ha tutta una serie di attività diciamo chiuse o a numero chiuso di approfondimento che vanno dall'utilizzo dei wet lab e dei lavori con biodesigner fino a appunto a presentazioni con aziende su questi temi tutte le puntate pubbliche di Life Life sono visibili sul sito del Muse nella sezione dedicata quindi anche per approfondire i temi di cui stiamo parlando molte delle questioni da quelle etiche a quelle filosofiche sono state trattate dentro Life Life con approcci leggermente diversi però si possono si possono prendere come un compendio a quello di cui stiamo parlando comunque dicevo quando abbiamo iniziato il primo Life Life due anni fa eravamo in mezzo ad uno spostamento enorme di immaginari che univano discipline artistiche speculative scientifiche e in particolare ci stavamo interrogando su questo spostamento di immaginari sul decentramento dell'umano rispetto all'eccezionalismo della specie dell'uomo però mi sembra che da due anni fa ad oggi lo stesso dibattito di cui stiamo parlando e di cui parlavamo all'interno di Life Life si sia intensificato cioè abbiamo case editrici che pubblicano collane non specialistiche dedicate a temi della biologia dell'etologia dell'antropologia multispecie abbiamo piattaforme di streaming che ci hanno proposto film su funghi e batteri abbiamo visto un polipo essere protagonista di uno spettacolo teatrale da poco insomma mi sembra che filosofi scienziati antropologi artisti si stiano allineando per o quantomeno questi temi siano diventati più permeabili anche non solo nel discorso degli specialisti come magari potremmo essere io o Giuseppe ma anche nel discorso per il pubblico meno avvezzo ai laboratori di biologia e quindi questi temi stanno diventando anche forse grazie anche la pandemia temi di discussione stanno diventando stanno entrando anche in altre aule che non sono solo quelle appunto dei laboratori safety two or three dei laboratori di biologia e questo secondo me è molto bello perché sono cioè è quello che io auspico anche con il mio lavoro artistico cioè sono modi di conoscere il mondo unire queste queste discipline sono modi di porre domande di interpretare la realtà e le domande che poniamo sono domande complesse e non possono avere risposte semplici e quindi è solo unendo queste discipline che si può iniziare a a a a a riragionare su questo poi ci sono dei problemi che la scienza forse il cambio di prospettiva che l'arte chiede e che l'arte propone cioè di mettere l'osservatore al punto del punto di vista dell'osservato è un problema che spesso nel lavorare con gli scienziati io stesso mi sono trovato a discuterne perché appunto sono due approcci diversi ma non è che da un lato abbiamo la scienza con il metodo scientifico e dall'altra c'è l'arte con diciamo come occasione estetica che devono unirsi per rendere più interessante uno o l'altro è proprio una questione sostanziale cioè stiamo cercando risposte a temi complessi ed è solo unendo le discipline che lo possiamo fare nonostante le critiche appunto soprattutto appunto in questo momento in cui ci sono anche moltissimi problemi dal punto di vista etico con la nuova espansione appunto per esempio dell'edit genetico o della bioingegneria e che magari la scienza non riesce magari a comunicare alla alla grande alla maggior parte della popolazione quindi l'arte in questo caso può essere un ponte anche dal punto di vista filosofico per creare appunto delle domande e dare delle possibili anche magari risposte anche dal punto di vista più estetico e anche filosofico sì sì vero capisco il vostro punto di vista e condivido è come forse una delle parole chiave è proprio l'interconnessione e non non c'è più una questione di separazione di discipline ma è proprio di lavorare verso la stessa direzione unitamente non c'è nemmeno più l'unire e a questo punto non ha più nemmeno senso la distinzione naturale e artificiale vi chiedo perché noi come progetto noi noi come muse facciamo parte delle attività di outreach del progetto di CDC quindi non rientriamo nei laboratori a cercare di ricreare la vita di creare la vita sintetica in qualche modo però vorremmo aumentare la discussione il dibattito su queste tematiche perché come dicevi anche tu Giuseppe le potenzialità sono enormi anche a livello di società e diciamo così si parla di vita artificiale e di naturale nell'incontro precedente abbiamo parlato di intelligenza artificiale e allora vi chiedo dal vostro punto di vista naturale artificiale io ho sempre avuto una grandissima difficoltà a definire la parola artificiale come contrapposta poi al naturale ovviamente quando si pensa c'è sempre una prospettiva dell'uomo al centro dell'universo che è questa prospettiva un po' che abbiamo ereditato un po' dall'umanesimo dove l'uomo era al centro del mondo e tutto girava intorno ad esso nella mia prospettiva diciamo del postumano non c'è proprio una netta distinzione tra naturale e l'innaturale l'artificiale per esempio l'uomo qualsiasi cosa che l'uomo produce in un certo senso è considerata artificiale nel nostro io avevo fatto per esempio anche un piccolo sondaggio su Instagram e avevo chiesto per esempio a degli utenti come consideri un palazzo lo consideri artificiale o lo consideri naturale la maggior parte degli utenti circa l'85% delle persone hanno votato artificiale e poi ho detto come consideri un bird nest un nido di uccelli e la maggior parte delle persone ha risposto naturale per il 90% naturale allora a quel punto di vista ho pensato ma allora un nido di uccelli in realtà è un'architettura creata da un altro animale che fa parte di questo pianeta e noi l'architettura del palazzo dovrebbe essere la stessa cosa invece la percezione che si ha è che tutto ciò che viene in realtà realizzato dall'uomo in un certo senso è artificiale questo perché appunto l'uomo ha questa concezione dove tutto ciò che lui crea è in qualche in qualche modo sintomo di qualcosa che va al di sopra del naturale quasi anche una concezione religiosa magari Verenza ti ritrovi anche tu in un web giusto ma io mi ritrovo molto in una in una parola che è negli ultimi anni diventata molto importante sia per le discipline antropologiche che per quelle filosofiche ma anche per il mio stesso lavoro cioè che è il concetto di assemblage di assemblaggio cioè in questo caso lo applicherei ad un assemblaggio naturale artificiale ovvero cioè non importa se il confine si è ridefinito si è spostato cioè l'idea è di lo sforzo più importante l'eredità da cui dobbiamo partire è che l'eredità delle discipline armonistiche delle discipline artistiche ma anche di quelle scientifiche da cui dobbiamo partire è quello che dobbiamo smettere di pensare ad un confine ad un pensiero avere un pensiero dicotomico e quindi pensare al confine naturale artificiale come abbiamo pensato per anni al confine naturale culturale come abbiamo pensato al confine tra uomo e non umano tra arte scienza esatto quindi questo è un assemblaggio naturale virtuale esatto esatto cioè come dice Emanuele Coccia ogni specie è un patchwork di pezzi prelevati da altre specie cioè non c'è niente di naturale nulla l'aria che respiriamo è l'escrezione di altri viventi che la eliminano quindi quello che voglio dire è che questa distinzione non aiuta il modo di interpretare questo cambio di prospettiva a cui dobbiamo far fronte e quindi cioè non vedo un confine tra naturale e artificiale semplicemente perché il naturale non esiste cioè non c'è nulla di quello che ci circonda è naturale può essere naturalizzato ma non è naturale questo è il mio punto di vista e quindi viviamo costantemente in questo assemblaggio tra il naturalizzato e l'artificiale tra il naturale e l'artificiale che costituisce il mondo che vediamo per tutte le specie non solo per noi poi ovviamente è anche una questione culturale perché poi diverse culture hanno una capacità di 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 guardare il mondo anche abbastanza diverso dall'altro per esempio io ho notato recentemente in Italia si utilizza la parola inseminazione artificiale per quando appunto è l'uomo che che fa un'induzione artificiale per magari IDF no? per per la procreazione medicalmente assistita esatto 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 che magari in inglese non esiste questa parola che in realtà dal mio punto di vista è obsoleta no? perché in realtà non sta facendo nulla di artificioso ma in realtà sta utilizzando dei processi naturali li sta soltanto inducendo e li sta organizzando in modo più efficiente che quello che fa la medicina da sempre poi è bello perché per Lorenzo è tutto artificiale perché Giuseppe è tutto naturale quindi alla fine è bello perché in realtà è interessante perché se tutto può essere naturale o tutto può essere artificiale in realtà è la stessa cosa poi è molto interessante io vedo che non sono arrivate domande in chat quindi concludo io facendovi un'ultima domanda naturalmente questa chiacchierata non voleva essere esaustiva sono solo degli spunti di riflessione un modo per cercare di porci altre domande più che di trovare delle risposte e vi chiedo progetti futuri a questo punto quali sono i vostri progetti futuri nell'immediato o nei prossimi anni se intendete continuare su queste riflessioni che abbiamo fatto se cercate di stare esplorando altri percorsi ecco ma vado io vai tu Giuseppe vai 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 tu vai tu progetti futuri beh noi abbiamo un progetto con il con in cui il Muse Partner che è vincitore del decimo bando Italian Council da poco che si chiama The Mountain of Advanced Dreams che è una ricerca appunto su temi molto simili a questi sulle possibilità delle relazioni oltre il linguaggio con una molteplicità di altre specie di altre forme di vita e per questo lavoro avremo una prima presentazione pubblica a giugno in Germania ad Hamburger Banoff e poi in realtà la presentazione del progetto della produzione visiva avverrà da dicembre in poi attraversando partendo dalla Norvegia per arrivare fino a Napoli però più vicini ad oggi abbiamo la presentazione finalmente dopo tre anni di lavoro in prima mondiale del nostro primo film del nostro primo lungometraggio il 7 maggio al Trento Film Festival il film Forest and Evocation che è il risultato di tre anni di ricerca sulla relazione che l'Occidente ha e ha avuto con le foreste in tutti i sensi la relazione giuridica ma anche la relazione con lo spazio della foresta quindi questo è il primo appuntamento a cui mi sento di invitare tutti il 7 maggio al Trento Film Festival Bene grazie Lorenzo Giuseppe dici cosa vuole in pentola Sì vabbè sicuramente c'è l'opportunità di finire il progetto e di presentare il progetto che è iniziato di ACDC quindi che poi eventualmente grazie appunto a questo progetto potremo in realtà condividerlo e gli utenti potranno interagirci sul web quindi sarà un progetto diciamo aperto aperto a tutti poi in realtà voglio anche visto che siamo nel tema io farò parte della giuria di un contest che si chiama Figure 1A dove appunto in realtà è nato come un contest per scienziati per creare degli elaborati artistici per gli scienziati da quest'anno è stato aperto anche agli artisti e quindi per chiunque volesse partecipare c'è un open call che chiude il 30 di aprile in realtà tra 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 quattro giorni aperto a tutti gli artisti e a scienziati che lavorano appunto in questo nel campito nell'ambito della bioarte e poi ho un progetto di sto lavorando a un progetto probabilmente per la fine dell'anno con la Southern University di Boston in campo di robotica sarà una cosa completamente diversa ma sarà una cosa super interessante bene grazie ancora grazie mille a entrambi per il tempo per gli spunti di riflessione grazie a Giuseppe per essersi collegato dall'altro oltreoceano come si dice e grazie a Lorenzo per essersi collegato nonostante la tosse le condizioni non proprio perfette e io invito tutti a questo punto al pro l'ultimo appuntamento di questi open talk frontiere della biologia che sarà il 17 maggio e sposteremo la linea di confine ancora più avanti perché cercheremo di capire quali sono se esiste una regola per la scienza quindi il confine in questo caso non è tra arte e scienza ma fra scienza e quelli che sono i nostri diritti se c'è modo se chi si occupa della regolamentazione quali sono le questioni etiche e legislative che dovremmo porci quando si fanno ricerche un po' di frontiera e questo sarà il 17 maggio sempre qui sulla pagina facebook del Muse e del Muse Fab Lab grazie ancora ai nostri aspetti e grazie a tutti quelli che hanno seguito alla prossima grazie ciao 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 ciao